In città sicuramente sì, il virus ha perso la sua potenza, la sua aggressività, io l'ho già detto un mesetto fa questo, sicuramente il livello d'attenzione non deve essere mai abbassato, tant'è che tutti quelli che siamo qua abbiamo la mascherina. Così il direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Antonio Durso. La città di Arezzo è infatti covid free da oltre due settimane, stesso trend positivo registrato anche in Valdichiana dopo la guarigione dell'ultimo paziente. Nessun nuovo contagio inoltre è stato registrato in provincia di Arezzo dalle 14 del 3 giugno alle 14 del giorno successivo. Nello stesso lasso di tempo sono stati effettuati 1.107 tamponi, tutti risultati negativi. Il numero complessivo dei contagiati resta così fermo nell'aretino a 677 dall'inizio dell'epidemia. Cresce invece di due unità il numero dei guariti, 1.309, le persone per le quali l'incubo covid si è concluso. Le ultime due guarigioni sono state registrate, una ad Arezzo e l'altra a Bibbiena. Attualmente sono 66 i casi presi in carico dall'azienda sanitaria, 30 di questi si trovano in isolamento domiciliare, altri 18 invece in ospedale. Numeri dunque incoraggianti che lasciano beh sperare anche se resta necessario non abbassare la guardia.